E' tutto pronto per il primo carnevale estivo di Floridia. Sabato 10 e domenica 11 settembre il Centro Storico si farà teatro di maschere, allegorie, musica, balli, mostre, gioia e tanto divertimento. Un esperimento inedito per l'amministrazione guidata dal sindaco Marco Carianni che si è spesa per ripristinare una delle più belle tradizioni di Floridia, ma soprattutto per ridare luce dopo il buio della pandemia. Da cosa nasce questa scelta, questo esperimento? Ma intanto dall'esigenza di non far perdere il carnevale, soprattutto in un momento nel quale arriviamo da una pandemia che questo tipo di iniziative quasi rischiava di annullarle e di farle scomparire. Poi si sa l'obiettivo principale sul profilo culturale della mia amministrazione è stato appunto quello di ripristinare tutte le tradizioni. Lo abbiamo fatto con il paleoippico dell'ascensione e adesso si è dato il caso, grazie all'erogazione di questo contributo da parte del Ministero, che ci fosse la possibilità di fare la medesima cosa per il carnevale. Abbiamo una limitazione, diciamo così, burocratica, ovvero che queste risorse che ci sono state erogate dal Ministero, dal MIBACT, siamo obbligati a spenderle entro il 31 di ottobre. Per cui abbiamo voluto approfittare di questa situazione, considerato che a febbraio il carnevale non l'abbiamo potuto fare per le ragioni che conosciamo tutte, ovvero quelle legate alla pandemia, per poter organizzare un carnevale estivo che non soltanto facesse divertire i nostri ragazzi o comunque tutta la comunità, ma che mettesse anche i commercianti di tutto il centro urbano, perché diciamo che la sfilata attraverserà buona parte del nostro centro urbano nelle condizioni non soltanto di lavorare ma anche di recuperare quanto si è perso a causa della pandemia. Sindaco, quante possibilità ci sono di poter riavere comunque il carnevale nel periodo tradizionale? Io penso che se non ci dovessero essere problemi legati a situazioni pandemiche, emergenziali, sanitarie eccetera eccetera il prossimo anno noi potremo anche a febbraio, comunque ora dovremo capire per calendario quando sarà il carnevale, io penso che noi facendo un lavoro, iniziando a lavorare già da adesso, potremo a febbraio assicurare il carnevale alla comunità floridiana. Le chiedo questo perché il carnevale è stato sempre anche una gioia per i bambini, quindi con l'evolgimento delle scuole, tutto quello che è insomma... È un po' quello che abbiamo fatto già quest'anno perché le scuole sono state coinvolte, il liceo sta facendo il tradizionale gruppo mascherato, questa sfilata io spero e sono convinto che sarà così, ovvero che sarà bellissima, è anche un modo per alimentare ulteriormente i rapporti umani, le interazioni fra gli individui, fra le persone che sono un po' venute a mancare nell'ultimo periodo e quindi l'obiettivo principale è poi anche questo, ricostruire i rapporti sociali. Un ricco programma stilato in breve tempo, frutto di una grande collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti, ma che si farà garante di un ritorno alla gioia, al divertimento e alla socialità. È un vero esperimento per Floridi, il carnevale estivo non si è mai svolto, però ho trovato molto entusiasmo da parte delle persone, da parte degli organizzatori, di coloro che si sono sempre messi in gioco e quindi ce l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di portare avanti questo progetto e abbiamo un po' ridimensionato il percorso, perché c'è ancora molto caldo per cui non si può, è impensabile partire alle 16 o alle 15 del pomeriggio per percorrere tutte le strade del paese, ma partiremo da Largo Trigiles e arriverà poi in piazza lungo via Pellico e ci saranno chiaramente le solite esibizioni in piazza con i gruppi mascherati che parteciperanno, un gruppo fuori concorso che farà dei balli storici, una rivocazione storica e poi come sempre musica, DJ set e tanto divertimento. Quindi carri allegorici, quanti gruppi mascherati? Sì, avremo quattro gruppi mascherati e un gruppo fuori concorso, un carro allegorico, per le tempistiche non siamo riusciti a fare altro, ma una cosa che mi preme sottolineare è che abbiamo voluto allestire le due piazze, Piazza del Popolo e Piazza Umberto, con delle installazioni di carta pesta molto grandi e molto belle che vi invito appunto a venire a vedere. Interessante anche la mostra dedicata ai costumi del carnevale degli anni 90, sicuramente ci saranno tanti nostalgici, quindi anche lei si impegnerà penso per poter ripristinare il classico carnevale. Ma certo, ma chiaramente, avremo una mostra degli abiti del carnevale degli anni 90, quindi un carnevale glorioso, una conferenza sul carnevale organizzata dal Museo Bruno, per questo devo ringraziare Cetti Bruno che è stata disponibilissima, quindi saremo al Museo Bruno e in Piazza Umberto I per la conferenza, e ci sarà pure una mostra fotografica dei carnevali del passato al Palazzo di Città, al Palazzo Comunale organizzata da Alfredo Ragnolo.